Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, ecco gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPI lì dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Rallentamenti invece per traffico intenso in A1 tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna. Sempre in A1 si ricorda che fino alle 18 del 18 febbraio sarà chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna e Trappian del Voglio e Aglio in direzione Roma. In A11 rallentamenti per lavori urgenti tra Luca S e l'allacciamento con la 12 in direzione Pisa. Sulla statale 1 Aurelia invece restringimento di carreggiata con possibili disagi tra Riotorto e Venturine in direzione Livorno. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!